Napoli Flash 24 per la notte bianca dell'11 ottobre al Vomero. Ci troviamo nel centro estetico Isole Lampados con il nostro amico Lorenzo. Lorenzo, cosa ne pensi della notte bianca? Penso che sia una bella manifestazione. Se non erro, è la terza edizione che si organizza questa notte bianca al Vomero. Io come sempre ho sempre aderito, promuovendo anche la mia attività e facendo partecipi di questa manifestazione. Credo che sia favorevole allora Lorenzo. Lorenzo, che cosa proponi per migliorare questo evento? Una migliore viabilità, magari ampliare delle zone dove si può parcheggiare e mettere servizi pubblici in più durante il percorso della notte bianca al Vomero. Lorenzo, offri qualcosa agli avventuri durante la notte bianca? Diciamo che ai miei clienti e non quella serata offriremo un aperitivo e un po' di musica con il nostro DJ Jenny, amico e cliente. Benissimo, Napoli Flash 24, Isola di Lampalos, Lorenzo.